Il mio padre Quindi, al passare i sosserati, è una cosa che aveva soltanto di lenta al posto, a passare una via di dormire. E che fanno i primissimi, che fanno i primi, come che mai l'avevi fatto, in che corso di arte che lui ha conosciuto i missi. E che era pienissima per i nostri tempi, che aveva soltanto di lui, und eravamo i primi, e che aveva soltanto di te, e che aveva soltanto di te, e che aveva soltanto di te. Sì, sì, sì. Ma l'attaccata Tavà ha cominciato a parlare, a raccontare a questa donna che non aveva mai visto, a questa donna bellissima, tutta la sua vita. Doce che al faceva l'idea minore, che alleva il marchiat, che alleva gli spiolutti, che al faceva il formato di os e gli ascoltava, ascoltava le doce che lui disegnava. Allora è come se i due si conoscessero di sempre. Sei che femmine? Escoltava. Allora è come se. 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 Allora è come se.